Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere il video del mio allenamento di coppia Ah che bello, mi sono messa in un posto della casa dove tira un po' di vento No vabbè, è stato un po' fresca qua E avete visto il mio ultimo vlog? Vi ho mostrato dei bellissimi capelli rosa E niente ragazze, io vi volevo far vedere il video del mio allenamento workout con Dario di coppia Vabbè che comunque faccio anche io, stasera vedrò di convincere anche lui E vi volevo dire una cosa importante che voi mi chiedete sempre Quali fonti proteiche io prediligo? Ovviamente io cerco di introdurre proteine con l'alimentazione Però per non solo accaricarmi, ad esempio di carne, io non mangio ad esempio molta carne rossa eccetera Introduco proteine in polvere e mello specifico Le proteine in polvere che prendo io sono queste qua di Natural Mojo E sono delle proteine a vaniglia che vi straconsiglio ragazze Prima di tutto perché hanno ingredienti naturali come tutti i prodotti Natural Mojo Inoltre hanno un buon sapore Di solito le proteine in polvere hanno un saporaccio un po' chimico, un po' brutto Queste invece sono di vaniglia e sono veramente buone Basta unirle semplicemente all'acqua oppure a un latte vegetale E avete la vostra bevanda alla vaniglia molto buona e sono delle proteine Che quindi io prendo io dopo l'allenamento per intensificare i muscoli Quindi vanno a ricostituire i muscoli per creare la massa muscolare e tonificare il corpo E sono veramente per me un toccasana e le prendo da mesi e mesi ormai Quindi forse quasi un anno Quindi ve le straconsiglio, sono super approvate Un'altra cosa che prendo io sempre sono le Fit Cups Sempre di Natural Mojo E le prendo queste qua Aumentano tantissimo il metabolismo Voi sapete che io mangio tanto E come fai a mangiare tanto? Spesso mi chiedete senza ingrassare Come fai ad avere un metabolismo così veloce? Io ce l'ho già veloce di mio Però un segreto per aumentare il metabolismo sono queste qua Sono delle capsule naturali al peperoncino, carnitina, tè verde, colina, garcina cambocia E sono tutti ingredienti che servono per accelerare il metabolismo e bruciare più grassi Quindi perdere qualche chiletto di troppo E in particolare io le prendo tre compresse Sono tutte naturali, quindi a base di erbe, quindi del tutto naturali Prima, un'ora prima di allenarmi le prendo sempre In questo modo quando poi vado a fare allenamento È come se bruciassi di più E soprattutto brucio grassi, cosa importante Anche perché poi dopo vado a prendere le proteine Quindi ricostituisco i muscoli Perché la cosa importante è avere massa magra Bruciare la parte grassa E avere, intensificare la massa magra Che è quella che ci dà tono I glutei, l'addome, eccetera Quindi queste qua io ve le straconsiglio Ragazzi sul sito naturalmongio potete avere lo sconto del 20% Inserendo il mio codice sconto Carità dolce 20 Se inserite questo codice sconto Avrete il 20% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito Io vi sta consiglio di provare le whey vanilla Le fit caps e i prodotti fit Che sono i miei preferiti In particolare il fit cappuccino Il fit cocco Il fit chocolate Sono buonissimi E servono quelli là per andare a fare dei veri e propri pasti Quindi merenda per merenda Per colazione, eccetera Comunque utilizzate il codice Carità dolce 20 Sul sito naturalmongio.it Così avrete un bello sconto Yeah! Ecco qua ragazzi Ho preparato il mio shaker di proteine Whey vanilla Dove ho messo 30 grammi di proteine Poi vi dovete far consigliare comunque dal vostro coach A me i 30 grammi vanno bene per il recupero muscolare post workout E ho messo acqua fredda Quanto basta A me viene una bevanda buonissima al gusto di vaniglia Che se non lo sapessi non penserei che è uno shaker proteico Ma penserei che è tipo un milkshake Buonissimo Quindi basta poi dopo shakerare Ma pochissimo E si mescola tutto Cosa importante L'affarino questo qua metallico Come mi chiedete sempre a cosa serve Si lascia sempre all'interno Adesso questo è un altro Perché io ho due shaker E lo dovete lasciare dentro Io l'ho messo dentro Perché serve per disperdere bene le polveri Comunque queste proteine sono molto fini Quindi si dispergono Basta fare comunque così Anche questo shaker ve lo straconsiglio Anche questo è di Natural Mojo Lo trovate sempre sul sito E io lo trovo molto pratico Perché poi prendo le mie tre capsuline Queste qua Eccole qua Io ne prendo sei Perché tre per me e tre per Dario Le faccio prendere sempre anche a lui E le metto qui sotto Questa è la cosa figa Qual è che qua dentro si mettono le fit caps E quindi in un'unica cosa Vi portate tutto appresso Per il pre e post workout I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Attendo a te Si con me te quedas O con nosotros te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si tu somos un palco Por otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices I just wanna be part of your symphony We hold my tight and not let go Symphonies Like a last song on the radio We hold my tight and not let go Sorry if it's all too much Super Super Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, prima o poi secondo me faranno fare un video musicale. Speriamo. Sono troppo brava. Fa 35 anni poi. Sono troppo brava. Spire. Spire. Non c'estate. Spire. Ok. Spire. 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 Giù Giù Dare una schiappa Vero? Ah, c'è la rosa a correre Tu sei ora riesci a fare l'addolo Eh, non mai, non lo faccio mai Dai Su Espira Espira Vedete, dice pure lui Su, è vera la radio Su, mani che 3 4 5 Toroshin 6 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 13